Bene ragazzi siamo Ingram e siamo tornati con un nuovo episodio Questa è la sua squadra Questa sarà De Baggati E vi partiamo proprio con una buona notizia Stavamo vincendo per la prima volta dopo una settimana E ci si è disconnesso Quindi si va avanti il paura Noi siamo fortunatissimi nello 2-2-1 Quindi partiamo con una partita in meno E con una confitta perché ci si è disconnesso in modo Comunque lui intanto è tornato ad essere blu Io sono tornato ad essere rosso Vai qua Vai qua Vai cazzo Quanto è che non c'è il tuo profumo del vantaggio Subito Mancano delle informazioni C'è buono Sì Odore E tu è buono Mamma mia Si ragazzi si Che bello promesso che si vinceva Cazzo Bella bella Mamma mia che apertura perfetta per i turbe I turbe I turbe I turbe Si accentra i turbe Ancora prova al sinistro I turbe Poi tirà No 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 Vabbè Vaffanculo Ah buono La tiro io La tiro io No no la so tirà La so tirà No la sai tirà Spregano la poliziera Te la so tirà E poi devo farlo così Vedi? Vabbè It's a trap PIRLOOOOO PLE A GERO No è vero Che avevo detto come si tirava Non è vero Non mi ha detto Sì Sono morti io Che so se ne va No No Vabbè sti cazzi ne fanno un altro al volo Circa una cia Caggio No ma il cuore Lorenzo là Pannaggia Madonna mia No ma è qua che c'è l'evacutazione di 79 Devo dire che curano poco Allora questa No ma il bello è che una volta ci fosse una gioia dei mani che sono vinti Hai capito? No ti rifà Una città è una sconfitta Vabbè comunque dai Ci la mettiamo tutta Eh Di Maria Devez No è che importa Dici H Io rimposto È un problema io rimposto Bella 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 No ma C'è sì Non potremmo tutti andato fatto Cioè C'è Non potremmo pensare Questa Cazzo 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 Guardate Che cazzo di insulti Hai rispiso 200 euro per fare questa formazione E insulti Stai zitto stai almeno Porca puttana Medico costato Poi non lo sa E mori Ah Poi Bella Che non corre Quando serve non corre Mortacci tua Oh Si scansano proprio Si scansano L'anima dei mortacci vostra Oh mio dio Dalla Ritalla Cazzo Oh no Che cazzo fa Perché pensavo L'aveste preso Andando in scivolata Però ha crossato Ma mi pare che c'è tipo Orgasmi molti Che ogni volta che Pia il pallone E perché c'è cosa Sforzarmi E prendi Dai E se ti sforzi A apri Eh Ma lo stai facendo Primo Ma guarda Sto cano Da merda Oh Mamma mia Che cazzo E' una cosa che è Ma che cosa è Stranissimo Non lo so Non mi pensavo Passasse meglio Però E questo è quello che fai I cucini E non ho fatto Sto chiamato indietro E poi Sto chiamato indietro E questo è Non è E cioè Non è Così Mi cazzo E cazzo E cazzo E cazzo E cazzo E cazzo ahahah ah 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 abbronzatissima ahahah cazzo e leva del cazzo che cazzo vuoi se il barbo è grosso non lo so quanto dai cristo dio non vuole allungare no 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 cazzata 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 non è vero cazzata 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 che cazzata 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 madone accampo ma tu non ci pensai non ti è entrato niente perchè mi portavo 10 tu ti prendono palla ma baffanculo c'ha campioni e va bene di esbor da cazzata Vabbè, questo episodio è finito E noi siamo in forza Bene